Nella Basilica Vaticana, mercoledì mattina, si sono svolti i funerali del Cardinale Francesco Marchisano, arciprete emerito della Basilica di San Pietro, spentosi a Roma a 85 anni di età. Le seguie sono state presedute dal Cardinale Decano, Angelo Sodano. Come di consueto, al termine della celebrazione, il Papa ha preseduto il rito dell'ultima commendazio e della Valedixio. Papa Francesco è ricordato con affetto un caro pastore, che per tanti anni ha prestato la sua solerte collaborazione alla sede apostolica e lascia la testimonianza di una vita spesa nell'adesione generosa alla propria vocazione, come sacerdote e come vescovo.